Buongiorno a tutti da Panko Pallino, oggi ci troviamo a Firenze e questa è la chiesa di Santa Croce dove abbiamo un concerto di sei campane in da tre e oggi è domenica 13 giugno e alle 10.45 per la messa delle 11 ascolteremo la distesa delle tre campane mezzane. A dopo! Grazie! 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 Grazie!